La delegazione italiana, i rappresentanti dei comuni, delle province e delle regioni unitariamente chiedono di avere più coraggio all'Unione Europea. Siamo in una fase nuova, una fase di avvio. Si è insedita il nuovo Parlamento Europeo, fra poco si insederà la nuova Commissione, presto si insederà anche il Comitato delle Regioni. Noi chiediamo di cambiare marcia, lo chiediamo di approfondare tutte le grandi questioni dell'Unione Europea, dalla questione dell'ambiente, alla questione della giustizia sociale, alla questione del cambiamento, del cambiamento anche delle tecnologie, del cambiamento delle culture. La delegazione italiana oggi è convinta che ci vuole più Europa per affrontare meglio le grandi questioni e lo facciamo in modo straordinariamente unitario.